Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere le novità di iOS 14 Beta 7 rilasciato per sviluppatori pochi giorni fa. Eccoci qui quindi con il mio iPhone 11 Pro Max aggiornato ad iOS 14 Beta 7. Si tratta di un aggiornamento che segue di una settimana esatta la Beta 6, come vi ho già detto nell'altro video relativo alla Beta 6 ormai siamo passati a un ciclo di aggiornamenti settimanali. E ci sono fondamentalmente due grosse novità più un bug fix. Partiamo proprio da quest'ultimo, è stato corretto il problema con le AirPods che quando dovevano poi essere abbinate avevano dei problemi sia in questa interfaccia qui sia in quella proprio quando le indossiamo che mostra la connessione. Compariva su iOS 14 un banner qui in alto che era un po' rovinato, adesso è stato corretto, insomma i testi compaiono correttamente. C'è ovviamente di più però a partire da alcuni miglioramenti in libreria app che è questa schermata qui, l'ultima diciamo schermata della home di iPhone su iOS 14. Tra l'altro curioso, questa libreria app è disponibile solo su iPhone, su iPad, non c'è per qualche strano motivo. Comunque sono state un po' riviste le categorie, infatti sono stati cambiati alcuni nomi, sono state aggiunte delle categorie, ad esempio abbiamo suggerimenti, aggiunte da poco che prima se non ero si chiamava recenti, social, produttività e finanze, utility, svago, creatività, viaggi, altro, acquisti e cibo, istruzione, anzi istruzione qui sotto, giochi, informazioni e lettura, salute fitness e poi se testate delle beta di applicazioni avete anche test flight con tutte le beta. Poi a livello di funzionalità non è cambiato nulla, possiamo sempre premere qui e vedere in ordine alfabetico tutte le nostre app. Chiudiamo però il libreria app e andiamo a vedere l'ultima novità che c'è in questa beta, un qualcosa di atteso ma forse non in questo modo, ci aspettavamo tutti dei nuovi sfondi. In iOS 14 ci sono perché già quelli che vedete, questo, quello rosso e blu sono nuovi sfondi, ecco ci aspettavamo anche dei nuovi sfondi statici, non sono arrivati ma adesso in impostazioni sfondi, scegli nuovo sfondo, abbiamo anche tra gli sfondi statici che però hanno, vedete, una variazione da dark a light mode, abbiamo anche questi qui, quelli arcobaleno, che come potete vedere passano da essere o tutto nero, tutto verde, tutto giallo, tutto arancione, tutto rosa eccetera eccetera ad essere in alcuni casi come questo, sia verdi che neri oppure sia azzurri che neri a seconda della dark mode, se attiva o meno la dark mode cambia lo sfondo. Vi faccio vedere, questo è lo sfondo in light mode, quindi quando c'è luce, ma se andiamo ad attivare la dark mode, vedete, transizione, si passa ad uno sfondo nero con l'arcobaleno che resta colorato, insomma un'opzione in più carina per questi sfondi che comunque hanno riscosso negli anni un buon successo. Bene ragazzi, quindi queste sono le principali novità, le principali tre novità di iOS 14 Beta 7 per tutti coloro che, vabbè, queste non sono vere novità, le vere novità di iOS 14 ve le abbiamo fatte vedere in un video dedicato, le rivedremo in una recensione dedicata poi dell'aggiornamento, ma insomma per accenarvene qualcuna ci sono i widget che ora possono essere inseriti come avete visto anche nella schermata home, c'è l'app library, queste due sono le due più grandi novità di iOS 14, poi ci sono i miglioramenti in Safari, miglioramenti in musica, in mail, tanti tanti miglioramenti. Qui e là, più nuove funzioni che comunque troviamo nel sistema, tra l'altro con la Beta 7 arrivano anche qui le notifiche di esposizione integrate nel sistema come in iOS 13.7 senza bisogno di un'app dedicata, insomma c'è veramente tanto, c'è il nuovo Siri meno intrusivo, ma non voglio ripetere quello che ho già detto in un altro video, soprattutto all'alba della recensione di iOS 14 direi che per le grosse novità possiamo aspettare. Questi sono i nostri aggiornamenti puntuali, precisi, beta dopo beta e chiaramente le novità non possono essere ad ogni aggiornamento ogni settimana così tanto rivoluzionari. Comunque iOS 14 è quasi pronto, secondo me tra la prossima settimana e la prossima ancora potrebbe arrivare la GM e poi magari durante l'evento Apple subito dopo anche la versione finale. C'è un po' da capire quest'anno quali saranno i tempi perché comunque con l'iPhone in ritardo e con iOS che è ormai pronto, ci potrebbe essere appunto una qualche distanza tra il rilascio degli aggiornamenti e il rilascio del nuovo hardware. Comunque se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo in ogni caso in un prossimo video. Ciao a tutti!